Devo essere sincero la finale in campo neutro della Coppa Libertadores a me personalmente non è piaciuta per nulla perché è stato un tentativo ed è un tentativo della Combe Bowl di fare copia in colla alla Champions League. Però per cercare di fare questo copia in colla e assomigliare di più alla Champions si va a perdere una parte importante, una parte che rappresenta la tradizione della Coppa Libertadores, ovvero la doppia finale negli stadi delle due squadre finaliste. E quest'anno avremmo avuto una finale in due stadi straordinari, il Monumental di Buenos Aires e il Maracanà di Rio de Janeiro, con tutto ciò che ne consegue, con tutta la coreografia, con tutta la passionalità di due tifoserie che in due finali potevano trasmettere qualcosa di più rispetto a quello che si è visto ieri in campo neutro sostanzialmente. Poi tra l'altro questa location è stata scelta come piano B, visto che a San Diego del Cile, sede prescelta per questa storica finale di Coppa Libertadores, c'erano dei problemi di ordine pubblico. E quindi si è scelto Lima proprio come piano B per non avere problemi, tra virgolette i problemi dello scorso anno che avevano indotto a scegliere, a far pensare alla Combe Bowl, di far giocare le finali in campo neutro delle proprie competizioni, non solo della Coppa Libertadores. Però secondo me si perde tanto in tradizione, non penso sia la strategia giusta quella di far giocare la partita in una competizione come questa in campo neutro. La partita è stata una delle finali più rocambolesche, forse nella storia della Coppa Libertadores. È stata anche paragonata a Manchester United, Bayer Monaco del 99 dove lo United ribaltò nell'ultimo minuto la partita praticamente dominata da Bayer Monaco. Comunque questo parallelismo ci sta. Il River ha dato sempre impressione per tutta la partita di saperla gestire questa finale. Ha trovato il vantaggio subito, ha messo subito le cose in chiaro al quindicesimo, ma ha soprattutto dominato dal punto di vista fisico. Dominato dal punto di vista fisico dove il Flamengo non riusciva neanche a impostare un'azione, non riusciva a uscire dalla propria meta a campo. Infatti ti rimporta nel primo tempo che il Flamengo erano praticamente pari allo zero. Gabigol, un fantasma, Gabigol, giocatore di proprietà dell'Inter, che quest'anno ha fatto una stagione incredibile sia nel campionato brasiliano che nella Libertadores e capocannoniere. E tutti si rispettavano molto da questo giocatore che per 88 minuti sostanzialmente non è stato presente, non ha giocato. Il Flamengo era come se giocasse in dieci praticamente. È stata una partita molto difficile per il Flamengo. Uscirne fuori veramente è stato allucinante. Fino all'ottantottesimo il River l'ha gestita al meglio delle sue possibilità e con le proprie caratteristiche, ovvero una difesa che non fa passare nulla. Infatti Pinola per 88 minuti è stato perfetto nel tenere a bada Gabigol. Però 88 minuti non bastano per vincere la Coppa, a volte neanche 90 sostanzialmente. Nell'ultimo minuto e mezzo è successo di tutto, ovvero forse lo sforzo fisico del River Plate è venuto a mancare. La squadra dal punto di vista fisico è collassata per questo sforzo in mane, in posto per quasi tutta la partita. Gabigol riesce a segnare una doppietta che lo mette nel filmamento dei grandi giocatori sudamericani. Forse non dico che si tolga questa etichetta di bidone o di giocatore scarso, perché un gol del sudamerica è un gol dell'Europa. Però segna una doppietta che regala il secondo titolo della storia del flamenco, un titolo che è venuto dal 1981. Un flamenco bicampeato, un flamenco che vince con un europeo in panchino, ovvero quel Jesus, che ha fatto bene al Benfico, un po' meno allo Sporting Lisboa, che è andato dall'altra parte del mondo, che ha preso, sfruttato gli indroiti del nuovo contratto dei diritti TV del Brasile Rao per cercare di portare a casa gente con esperienza anche europea, anche non perfetta. Ci saranno gente come appunto lo stesso Gabigol, ma anche Rafinha, che è stato un campione d'Europa con il Bermonaco, insomma giocatori che comunque avessero un minimo di esperienza per far ritornare il flamenco ai vertici. Un flamenco che negli anni scorsi ha rischiato la bancarotta, visto i grandi debiti che aveva, e che negli anni è stato, tra virgolette, messo a posto e risalato da una nuova gestione che è arrivata col culmine della vittoria di ieri. Per quanto riguarda il River Plate, credo, probabilmente è il peggior modo di concludere uno dei cicli più incredibili e più lunghi della storia del calcio sudamericano. Perché Gaggiardo arriva nel 2014, perché Gaggiardo nel 2015 vince la Libertadores, l'anno scorso vince la Libertadores contro gli odiati rivali del Boca Juniors, caccia l'unto della retrocessione del 2011, ed è uno degli allenatori più vingenti, uno degli allenatori dei tattici, nonostante la sconvitta di ieri, per me più importante, uno degli allenatori più pronti, più pronti sudamericani a venire ad allenare in Europa. Infatti si era parlato di possibile arrivo a Barcellona e sarebbe, per quanto mi riguarda, una soluzione straordinaria, per quanto concerne il proseguo di carriera di quest'allenatore che secondo me in Europa potrebbe far bene. Si è parlato anche di MLS, io non me lo auguro, perché per me sarebbe un passo indietro per lui. Però credo che tutti i tifosi dei MLS avrebbero barattato tranquillamente questa Libertadores con quella vinta lo scorso anno, quindi tristezza sì, ma non tanto, perché la finale e le finali l'hanno vinta. Detto questo, la Libertadores è terminata, adesso ci sarà il Mondiale per Club, e nel 1981, quando andò a giocare all'Intercontinentale, il Flamengo si ritrovò in Liverpool, avversario che si potrebbe ritrovare, se passa le eliminatorie e le semifinali del Mondiale per Club, nella finalissima appunto del Mondiale per Club. Vedremo cosa succederà. Per il momento è questo. Flamengo bicampeavo. Saluti da El Trincia. Saluti da El Trincia.